Oggi siamo in piazza per manifestare perché i nostri produttori, i nostri allevatori non ce la fanno più, le stalle, inclui Venezia Giulia, ma in tutta Italia stanno chiudendo, ai nostri produttori il latte viene pagato 0,35 centesimi al litro, se va bene, quando in realtà questa cifra non copre nemmeno i costi di produzione, siamo qui per sensibilizzare l'opinione pubblica, il consumatore e tutti gli italiani perché questa situazione non può andare avanti, i nostri allevatori hanno bisogno di dignità, della loro dignità e della remunerazione come giusto che sia per ogni lavoratore, per ogni lavoro, importiamo moltissimo latte in polvere, viene fatto formaggio che poi viene marchiato italiano, made in Italy con latte in polvere e questo non va assolutamente bene, noi italiani vogliamo consumare il nostro formaggio fatto con il nostro latte, non è possibile che in un'Europa unita avvengano ancora queste cose, l'Italia è contro la produzione di formaggi con latte in polvere e contro la produzione di mozzarella e yogurt con latte in polvere, viviamo ogni giorno questa invasione di prodotti che vengono trasformati all'estero e entrano in Italia, gli yogurt entrano fatti con il latte in polvere e vengono commercializzati, i produttori questi non lo sanno, i consumatori questo non lo sanno e noi siamo qui per rivendicare un giusto prezzo per gli allevatori e una corretta etichettatura per tutti i prodotti dell'attiero caseario.